Ascolta Maria siamo qui da tanto tempo io voglio evadere hai capito guarda che cosa ho trovato questo ciao a tutti ragazzi e bentornati bentornati su roblox stavo parlando con la mia migliore amica perché vogliamo evadere da questa prigione dei mostri perché bella faccia si caccia sempre in un mare di guai qui ci sono persone che ballano ma perché balli c'è perché balli ho capito che hai donato sei uno scioppone ma non per questo devi ballare Allora che cosa facciamo oggi dobbiamo evadere dalla prigione dei mostri e c'è solo un modo ragazzi andare da questa parte oh mio dio guardate ragazzi sono tutti imprisonati qua dentro no piccolino non ti preoccupare ti salverà bella faccia e tu vi salvo io non preoccupatevi non preoccupatevi ci penso io ok andiamocene via da questa prigione Maria salve tutto ok allora dobbiamo entrare assolutamente qua ok vai andiamo 1 2 3 4 5 ok fantastico obiettivo completato c'è poi ah gli alieni ci sono gli alieni ma beccati questo maledetto alieno ve lo dicevo ragazzi gli alieni ci hanno rapito e ci hanno messo in questa prigione dei mostri Maria non ti preoccupare ti salvo io 1 os 2 os 3 os 4 os 5 6 si e vai ok adesso oh mio dio Maria ma che cavolo è ma che cos'è sto cosa ma sei fuori di testo è un alieno è un mostro incredibile venuto dal passato allora io vorrei vorrei passare di qui porca miseria eh ehi mostro ma come ti permetti come ti permetti a ruttare c'è solo un modo per andarsene di qui ecco sempre dallo stesso posto salve no un labirinto lo sapevo ma perché io devo cazzarmi sempre in questi posti e ascolta amico è inutile che mi segui io non so da che parte bisogna andare tu mi segui e hai fiducia in me e lo apprezzo però io non ho idea oh ce l'ho fatta non è vero non ci posso credere ce l'ho fatta ce l'ho oh oh mio dio Maria ma dove siamo oh avete sentito guardate oh ok 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 è meglio andarsene è meglio andarsene da questo posto una discarica attenzione per la faccia perché qui c'è tutta la pipirra ma che cavolo è avete sentito ha riso qualcuno no 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 io me ne vado questa è tutta la pipì dei mostri ve lo dico io ok bisogna andarsene di qui ragazzi e bisogna che se ne andiamo allora di qua che c'è qua dentro non riesco a vedere secondo te amico cosa c'è qua dentro boh è meglio non saperlo mai eh ok oh sta arrivando un mutante attento 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 buttalo lì bravissimo stai attento perché è pieno di mostri dobbiamo andarsene è venuto da qua dentro e io non vorrei vorrei andare qua attento amico amico ok io prendo il checkpoint per sicurezza prima eh sai com'è allora qua sei andato oh oh mamma mia che versi che sento qua sei andato quindi ah ma non c'è nulla ok sto arrivando aspettami però io t'ho aspettato ma guardate questo che non mi aspetta nemmeno ok siamo nella sala informatica ma che è quello un occhio andiamo oh cavolo ok ancora qui dentro siamo ancora nel labirinto ma per fortuna che ci sei te guarda perché altrimenti mi ritrovavo da solo oh mamma che versi sentite ragazzi è pieno di versi di mostri ok omar io ti seguo omar 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 bravissimo omar ok checkpoint siamo oh mio dio il distributore guarda coca cola quella cos'è oh oh ho messo la bollettina sei impigliato porca miseria omar aiutami aiutami a spostare questa macchina inferna omar 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 ah sei qui ok maria salve ok dobbiamo entrare in queste porte omar devi stare attento sicuramente è questa oh e vai destra centro non ci credo se l'ho fatta ragazzi se l'ho fatta oh mio dio attenzione a non prendere le mille ma che che è stato ma che cavolo è stato oh mamma 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 via 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 oh sei it sei il cucino malvazio di it ma beccati questo stupidone ti spacco i due beccati questo legno nella testa hai capito ok ma maria eccomi ci sono oh mio dio ma è possibile che dobbiamo andare in questi posti in questi maledetti posti allora vediamo io qua non ci tengo molto ad andare omar vieni quanto ci metti a venire qui attento omar attento ti aiuto io porca miseria questo maledetto pagliaccio infernale omar stai attento stai attento omar ti aiuto io ti aiuto ok fantastico gioco di squadra da questa parte oh è bollente bollente ma guarda omar ma porca miseria ma sei finito nella lava ma sei proprio nabbo eh ma porca miseria porca pera omar te lo dicevo non devi nuotare nella lava ok maria grazie grazie maria grazie 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 ci siamo ci siamo ma c'è qualcun altro sono la tua amica qua che cavolo è stato oh mio dio qualche mostro mi ha sentito qualche mostro mi ha sentito piano bella faccia non cascare nella lava piano chi va piano va sane lontano mangia un zellato ma non fa rima ok di qua vado di qua omar ci vediamo dopo mi dispiace uno per uno tutti per tutti no com'era eccomi via via dobbiamo andarcene da questa prigione dei mostri dove cavolo sono ok omar ti aspetto se vuoi eh anzi guarda guarda oh ok no 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 omar io vado non ti aspetto oh porca miseria che cavolo è stato oh sento un sacco di urli un sacco di rumori che mi fanno un sacco paura attenzione a questi laser non voglio essere divisi in due oh ti sentito omar è spazzato ragazzi ok piano 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 ok 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 piano 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 ok ci siamo omar io vado avanti eh ci vediamo dopo ci vediamo dopo piano 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 ok 3 2 1 via 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 ah ma che è qua oh ma che è oh mamma mia oh 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 ma che cavolo è stato mamma mia che paura ci sono fantastico ecco dovevo beccare addirittura oh gli elefanti ci sono piano piano bella faccia piano 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 ci sono i mostri là sotto ma dove cavolo sono finito aiuto aiuto oh mio dio non guardare giù non guardare giù ti ho detto non guardare giù maria eccomi andiamocene via di qui via via me ne voglio andare via oh ma che è successo ma che cavolo è successo maria ma siamo ancora qua dentro ma non è possibile via 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 tetti laser tetti laser ok uno ok salto eh io salto tre quattro cinque attenti laser bella faccia oh guardate qua il mostro che brutto è un bambino alto guardate ci sono tutti i mostri rinchiusi qua dentro no 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 io me ne vado io me ne vado eccomi ma che è sta roba maria ma che è ma dove mi porti allora dove mi porti ma che è sto coso via 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 corri 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 è difficilissimo mi spingono via come faccio ad arrivare lassù vi picchi avete capito oh mamma mia da questa parte ok di qua guarda maria ce la sto facendo a zig zag bisogna riuscire ad oltrepassare questa maledetta forza oscura via 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 tutti i muscoli nelle gambe per fortuna ragazzi che ogni mattino mi svegliavo a correre perché altrimenti non ce la facevo dai muoviti maria seguimi dobbiamo andarsene insieme ma che fine ha fatto il mio amico omar che fine ha fatto salta 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 dai 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 arrivederci e a mai più eccomi oh ma che è sta roba gli impulsi elettromagnetici attento 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 ci sono le trappole oh mamma oh mamma attento 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 ahhh mio dio le trappole attento ci sono gli spuntori ok calma 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 ok di qua bravissimo di qua attento ci sono fatta ahhh au 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 eccomi maria ci sono tutto ok ok entriamo dentro il portale magico vai ok oh oh mio dio no 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 questo ragazzi è il fratello di it mi sta inseguendo bisogna correre bisogna correre destra o sinistra è di qua non lo so di qua di qua di qua di qua di qua andiamo 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 mi stai seguendo ok da questa parte si ce l'ho fatta maria eccomi ci sono uh ce l'abbiamo fatta ragazzi sono fuori sono fuori ma che è qua dentro che sta succedendo siiii ci sono gli evasi siiii ma il kebab sto posto ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta o forse ahhh oh mio dio ancora no me ne devo andare oh mamma mia non c'è tempo di kebab ragazzi perché dobbiamo andare via dobbiamo tornare a casa cari 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 ma non è che è tutto un sogno questo sembra tutto un sogno uh andiamo 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 cari 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 pium pium devo arrivare lassù muoviti 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 Vivit cavolazzo ma con non mi dimenticherò mai di te oh oh devo andare lassopra vai corri 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 tit tit Tributati tit finchè bella faccia salta lascialo andare finchè bella faccia salta lascialo andare ci siamo ci siamo ma no ma siamo ancora qua ma Maria ma dove mi porti ma siamo ancora qua ma non eravamo al kebab a mangiare Ok fantastico ci sono i canzelli Che c'è là bisogna arrampicarsi E allora ci arrampichiamo te lo dico io Ce ne andremo da questa oh non vedo niente Gli occhiali da sole servono cavolo Eccomi ci siamo Ci siamo ma che è sto posto Vedo una capra là ma perché c'è una capra Ah si esattamente c'è una capra Eccomi Maria ci sono Saltiamo qua sopra però qua c'è una capra Non devo andare dalla capra Beh beh Una capra con gli occhiali Ok vai piano Saltiamo sugli alberi ho capito Non è che sono una scimmia eh però Vai Ok ci siamo ci siamo Ci siamo ci siamo Ok non cascare Non cascare bravissimo Bravissimo continua così Bravissimo sei tutti noi bella faccia Sei tutti noi ci siamo quindi Si ci abbiamo fatta E adesso ok Vedo delle armi vedo dei mantelli Ma che cavolo è Ma dai Maria Io voglio fuggire da questo posto Infernale Via 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 Ok ci siamo Andiamo qua sopra Almeno non ci sono più i mostri Eh l'ho detta Ecco l'ho detta Ok mamma mia Si che la faccio la palestra oggi eh Ok Uno Una Una Due Una Tre Ma dove devo andare Ma dove devo andare Ma questa prigione è impossibile veramente Oh 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 Che è stato Che è stato Che è stato Piano piano coyote Piano Ok filo spinato Stai attento C'è il filo spinato Che fa male C'è le spine Eccoci Ce l'abbiamo fatta Ok E adesso E adesso Ah qua Ok saliamo Sto arrivando Non ho portato Gli occhiali da sole Non vedo niente Oh cavolazzo Attento che c'è la melma Di rinoceronte Qua sotto eh Ma dove dobbiamo andare Oh 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 Che cavolo è stato È meglio correre Corri bella faccia Muoviti Non guardare in basso Non sta succedendo niente No non è pipì di alieno Quella lì Non è assolutamente pipì acida di alieno Stai tranquillo Oh mio dio Ma questa prigione è impossibile Oh cavolazzo Attento Attento che scotta 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 Maria ma quanto ne abbiamo ancora Oh guardate la cacca qui Mamma mia un mare di cacca Via Salta le pietre Povere pietre Non vorrei essere loro eh Ok ci siamo Eccoci Eccoci Scaliamo ancora Oh mamma Se dovessi Ma è Nutella o Altra roba Non riesco a capire Piano Piano Oh oh Lupo Mannaro Stai tranquillo eh Eccoci Maria Ci sono Ci sono Oh mio dio Il fuoco E la finta Nutella Eccoci 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 Salta Dai che ce l'hai quasi fatta Bella faccia Ce l'hai quasi fatta Dei vadere da questa prigione Ce l'ho Come non detto Ok piano Attenzione a sto coso Che scotta Attenzione Attenzione a sti cosi Che scottano Grande ce l'hai fatta Via Giù per le fogne Giù per le fogne Giù per le fogne Cavolazzo Attento Schiva i massi Schiva i massi Schiva i massi Schiva i massi Ok ci siamo Ci siamo Ci siamo Oh i fili elettrici No vabbè addirittura I fili elettrici L'ho preso Aiaiaiaia Ha fatto malissimo Aiaia Ok piano 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 Salta Ok ci siamo Ci siamo Maria non ne posso più Voglio scappare da questo posto Devo saltare qua E ci salta Ahiaiaiai Ma chi è sto posto Ma stiamo scherzando Le segrete Ma questa prigione dei mostri E immensa ragazzi E praticamente immensa Ok andiamo Cioè non è che è immensa Dove si mangia Che va immensa no avete capito Vabbè lasciamo perdere ok andiamo Non ci vedo Ma che cavolo è stato Non ci vedo niente Hello Mi chiamo bella faccia Tutto ok tutto bene Casa famiglia ma che è qua Il parkour degli alieni ecco lo sapevo Nel parkour degli alieni sono finito Calma 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 Ok da questa parte Fantastico fantastico Maria ma dove mi stai portando Secondo me ti stai prendendo gioco di me Potevamo restare al kebab Ma Omar ragazzi che mi ha fatto Ok andiamo Per fortuna non sto incontrando più mostri Ma per fortuna Attento schiva sti cosi Attento che c'è della terra qua Schivala ok Dai ci siamo Il mio presentimento è che ce l'abbiamo fatta Il mio presentimento è che ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Non lo so Ce l'abbiamo Oh mio dio Piano 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 Che di sotto si casca Piano 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 Oh cavolo Piano Ma quanto Ma quanto Ma questo pulsante è enorme Ok da questa parte Che cavolo è Che cavolo è No 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 I topi I topi che nuotano No no Lasciatemi stare Oh mamma mia che schifo Dove sono finito Spero che questo Non sia l'acqua del water Ragazzi Ma cosa c'è qua Oh Salve Fesce Tutto ok Ma dove mi sta portando Non c'è più nessuno Non c'è Maria Non c'è Omar Non ci sono più i miei amici Piano Bella faccia Ci sei Ci sei Casca di sotto Oh mio dio Ce l'abbiamo fatta Ma dove cavolo siamo Ma Oh c'è un corvo Ma dove cavolo siamo ragazzi Ma non è che sto sognando Ah Il mio giardino zen Com'è fantastico Ce l'abbiamo Dai dimmi che ce l'abbiamo fatta Ti prego Ti prego Maria Non ne posso Non ne posso più Ce l'abbiamo fatta Dimmi Dimmi che ce l'abbiamo fatta Ti prego Ti prego Dimmi che ce l'abbiamo Sento ridere Chi cavolo è Ah Ma perché non porto mai gli occhiali da sole Ok da questa parte Dai ci sia Ci dobbiamo essere Ci dobbiamo essere Ce la dobbiamo aver fatta Ma quanto è alta questa montagna Eccoci Ma c'è un portale Oh mio dio Sì Vabbè Devo scalare tutto quello Ma siamo impazziti Corri 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 Ok Checkpoint Super velocità Super velocità Vai Continua così Continua così Continua così Bravo 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 Continua così Continua così Continua così Continua così Sì Ci abbiamo fatta E adesso Che è La miniera di zio pino Questo Ecco la mia amica maria Mi sono rotto le scatole di stare qui maria Ma vogliamo andare a prenderci una pizza Un kebab come prima Eccoci Che c'è qua Sono ancora nelle miniere dei nani Sono ancora nelle miniere dei nani Ma è così difficile evadere dalla prigione Ma che è qua Devo andare da quest'altra parte Dove devo andare Dove devo andare Come esco di qui Così Ok Fantastico Ci siamo Oh E fammi salire Oh Eccoci Allora Abbiamo finito Sì Vabbè Devo scalare la montagna E poi Oppala 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 Ok Mamma mia Oh che cavolazzo Se avessi saputo che Dovevo fare una cosa del genere Ragazzi non sarei venuto qua Ok Piano Così Allora Oh che cavolazzo È tutto così in pendenza Questa sì che è la salita 50% Eh Fiorellini Ok Sì Vabbè Mamma mia Oh piano Oh piano Oh Cavolo Cavolo che paura Cavolo che paura Ok da questa parte Dai ci siamo quasi L'ho detto 70 volte Che ci siamo quasi Però fidatevi Ci siamo quasi Se non muoio Attenzione 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 A quella melma Attenzione Ok Ma dove cavolo sono finito Cioè nel giardino Dei pazzi Sì va bene Va bene Maria Vado attraverso sto coso Vado Ci vedo Mamma mia Ma siamo ricascati Ma com'è possibile Cioè ogni cosa È una trappola Ma che Sì Vabbè Ragazzi Allora Io direi una cosa Che per oggi Mi fermo qui E mi riposo Perché questa prigione È veramente Troppo lunga Sono stremato Da bella faccia È tutto Fatemi sapere Se volete La seconda parte Della prigione Dei mostri E ci vediamo Presto Con un nuovo video Au au Ciao Ciao